In mezzo di questa tante giornata, Massimo Caminani insieme a una volta di un'ottomagna di cominciare, Pomi Casalnazzone, un buona partita a tutti. Ciao! E allora ancora benvenuto da tutto il pubblico del Paranel, è il momento di annunciare l'ingresso in capo della squadra ospite di questa giornata, è la Pomi Casalnazzone! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti